Chiamare la longevità vecchiaia significa trasformare una fortuna in disgrazia. Ecco, mi sono citato, perché questo è un aforisma mio, ma è un concetto, cioè lei è vecchia, no, io non sono vecchio, perché sono vecchio? Io sono longevo, che è una cosa molto diversa. La vecchiaia una cosa di brutto ce l'ha, non finisce bene. Chi facesse un'azione, diciamo, di emarginazione nei confronti dei vecchi, sta preparando la propria emarginazione e lo fa, perché magari lui pensa che vecchio non ci arriva. Certo, tanto non è facile diventare vecchio, non tutti ci riescono. E poi per diventare vecchio c'è una condizione essenziale, bisogna farsi trovare vivi. E per farsi trovare vivi bisogna capire la vita, esercitarla, e viaggiare, viaggiare anche senza bisogno di muoversi, perché leggere è viaggiare nel tempo e nello spazio. La vita si impara leggendo, la vita non si impara mica vivendo, perché ti capitano le cose sotto gli occhi e non le capisci. La vita si impara leggendo. Il vecchio è, se è giovane di mente, è anche un deposito di conoscenza. E mica è detto che un giovane è più giovane di un vecchio? Non è detto per niente. Poi il mondo si divide in capaci e in incapaci, non in giovani e vecchi. Insomma, tra un giovane incapace e un vecchio incapace, il più pericoloso è il giovane incapace, perché il vecchio incapace, i danni che doveva fare, li ha fatti. I giovani li devono ancora fare. E che ricominciamo da capo? Io da bambino ho conosciuto una ragazza e allora si moriva di tubercolosi. Sta ragazza morì e tre mesi dopo si scoprì la penicillina. Se uno legge, legge il manzone, legge la peste, se c'erano le vaccinazioni, la peste non veniva praticamente. Tanto per dire, una cosa terribile, e altre malattie terribili, ma non c'è proprio, nemmeno da discuterla una cosa del genere. Perché il vaccino del nostro corpo, del nostro essere di carne, di ossa, è quello che bisogna fare. Il vaccino della mente è la lettura. Quindi, praticamente, non farsi il vaccino è come uno che è analfabeta. L'uomo, prima di leggere, pensò alla pancia. Perché con la pancia vuota non si legge. Però le due cose hanno delle differenze fondamentali. Se uno non mangia, ti viene il mal di pancia. Purtroppo, se uno non legge, non ti viene il mal di testa. Perché se l'ignoranza desse il mal di testa, la cultura farebbe un salto di qualità. Invece l'ignoranza è asintomatica. Bisogna leggere perché il livello, diciamo, sociale di un paese, politico, civile, si alza. E alzando tutto questo, forse, crea anche condizioni, come posso dire, sanitarie migliori. Non è che ti vai il vaccino e vai a teatro. Se sei uno che legge e vai a teatro, ti vaccini. Perché hai la cultura per capire che il vaccino non è che è una cosa facoltativa oppure, come dire, positiva, ma così se non lo fai non succede niente. No. Il vaccino è fondamentale. Così come la cultura è fondamentale per la mente, il vaccino è fondamentale per il corpo, per la salute. Se ti vaccini, corri il rischio di campare a lungo. Se hai paura di campare a lungo, non ti vaccinare e può darsi che la vita finisce prima. Ma che discutiamo sulla prevenzione? No. Grazie. 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 Grazie.